Il 17 agosto parte ufficialmente la campagna elettorale della lista Italia Democratica e Progressista alle prossime elezioni politiche che si svolgeranno il 25 settembre. Della coalizione fanno parte Partito Democratico, PSI, articolo 1. Un paese precipitato al vuoto nel bel mezzo di mille difficoltà, ma i Dem si dicono pronti per tornare ad essere la prima lista in Italia, in Abruzzo. Una campagna elettorale sbagliata, perché sbagliate sono queste elezioni. Non bisognava determinare la crisi di governo e della legislatura. È la prima volta nella storia repubblicana che si vota a settembre e che si fa campagna elettorale in pieno agosto. È un errore contro il quale ci siamo battuti, ma è stato inevitabile per l'irresponsabilità di chi ha determinato questa crisi e quindi adesso combattiamo con coraggio e con determinazione. Una proposta di uomini e donne, quella abruzzese, tra cui spiccano i nomi di Luciano D'Alfonso, senatore uscente e candidato come capolista al proporzionale per la Camera. L'ex presidente della Regione Abruzzo è attualmente presidente della Commissione Finanze del Senato. Una mossa dell'ultima ora questa che potrebbe avere il suo effetto nelle elezioni. Io sono uno dei pochi parlamentari che 54 mesi fa era candidato capolista al Senato e 54 mesi dopo sono stato confermato capolista alla Camera. Con una regola elettorale tipo quella attuale conta di meno uno come induccio che porta le preferenze e conta di più Ignazio Larussa o Matteo Mauri. È chiaro che se si cambiasse regola elettorale tutto si definisce sul territorio. Io sono a debito con il partito perché per la seconda volta vengo scelto come capolista ed è una candidatura assolutamente che rende certa la mia capacità di lavoro domani a Roma perché io voglio dispiegare esperienza di lavoro. Il mio obiettivo punta a fare eleggere almeno il secondo alla Camera dei Deputati che è la candidata di Teramo Stefania Di Padova. Mentre per un posto in Senato il nome è proprio quello di Michele Fina, segretario del PD Abruzzo. So quanto per la mia regione, per la nostra terra sia importante avere l'alleanza dei luoghi nazionali per risolvere i nostri problemi e per dar forza ai nostri punti di forza. So anche esattamente come si può fare e quindi sono molto tranquillo ma anche molto concentrato. Non mi darò pace finché tutto quello che si può fare per la nostra regione non sarà fatto. in Senato naturalmente ma appunto in generale al Governo nazionale.